la raga attivi qua condotti anzi io dovrei prendere l'alieno un mostro che si chiama bruto andamorna a vinno io parmi ora è guardo Grazie a tutti 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 Come puoi dire una cosa simile Bella, grì Un'altra Grazie a tutti Ciao So io Grazie a tutti Ma che è il volante? Ciao Grazie a tutti Drifta Valero Grazie a tutti Grazie a tutti Bravo Grazie a tutti È impossibile Grazie a tutti